Si fa Jigglypulli, Vs e Ryusei Abbiamo quasi tutti i Pokémon, ci manca un Pt, ci manca un Lucario e un Grecia C'era Pt prima dove c'era Viracon, anche se lo da adesso Il M2 ce l'abbiamo, però deve presentarsi Viene da un pochino, ma l'ho preso dall'università, tutti fanno un po' le loro cose Ancora, vediamo Ryusei qui che prende un bel respiro dopo un incredibile interattivo set contro Jigglypull Ok, doppio Lariat, questo ci piace vedere Adesso va a farlo Questi giocatori qui... a me piace molto guardare questo set qua Perchè Bless ha imparato a giocare molto bene contro Insinero E Ryusei è molto bravo a fare rid Ah, se non c'è come fa, tu sei un po' bravo Ok, io ho tutto il mio da lì Io sto vedendo gente che crede che questa cosa sia vicenda Ok, ok, Isam Actually Upper Bridge, ok, buono l'EFT lo ributta fuori Riesce a ritornare sullo stage, il Nair lo ributta fuori Ok, non lo trova Un po' di attacche Facile di attacchi Facile di attacchi Sì, potremmo esistare una recovery alta Però comunque, Ryusei rimane un po' composto Non troppo, quanto basta Ok, e la recovery Buone recovery da 4.600 Ok, sei Blessing qua Non riesce a trovare questo gimp Cerca di allineare un pigio Non lo trova ottimo Il ramp No, tra tutte le ricorse E' un server B, che tank ha il new pit Torna a 3 E' un'altra attack Lo kill Comunque fanno tutti i problemi E' un'altra attack E' un'altra attack E' un'altra attack E' un'altra attack Allora, torno con lo stage Accenti, che è la attack Ehm, mandagli il link Direttamente E' un po' un disastro il boobot ragazzi Sono un moderatore Ma non soo Perchè Non mi fa fare le cose Da moderatore Ok Per il tempo Ryusei Comunque prende la stock Siamo a 52% Ai suoi danni Ma comunque Insinero E' un pg morto E' un pg morto E' un pg morto Ok Suota di un'altra stock Con un ottimo edgeguard Ok Back Back table Back row Back l'ulton Ok Ah, ma quando la spezza la stock E' un pg morto Ehm Proprio fa Perchè Ok 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 Ottimo il side B Lo dovrebbe killare Subito 80% Già una stock Andata Bless deve stare molto attento Letteralmente due interazioni Si 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 Esatto Mentre uno cheitta di edgeguard L'altro cheitta Di puro kill power Rabbia e risentimento Si E' la peggia che mi dà le anni Questa insinero Mh Lontis che passa sotto il fair Ok Non riesce a punire le grab Ottima Ottima la pacienza della battaglia di E6 Dai Dai Laia, dovrebbe killare ma non ancora, è un po' troppo vicino con il jab, Staphyaseph non lo aiuterà, Promont Frame non lo riesce a trovare, lo butta fuori Fired, connette e killa. Primo game per Blast. Perché in Traxian non abbiamo i diritti per modificare il titolo della stream. Quindi adesso saremmo un po' il cosplay della Toscana per adesso. Praticamente funziona così, essendo che noi abbiamo accesso a speed2 tramite key, su OBS non ci escono la chat e le cose che possiamo modificare. Per fare questa cosa dovrei utilizzare il moobot di Twitch per cambiare il titolo e altre cose, ma per qualche motivo non me lo fa fare, Metti il comando in chat e non mi fa, quindi mi dispiace. Dovremmo accontentarci di fare il titolo della stream. Almeno il titolo, ma non è lo stesso, quindi. Vabbè, ho provato down, ma ci stavate proprio da venire. Io ho sentito messo il titolo della stream. Ottimo down tilt. Sto utilizzando molto down tilt in questa chat che... Oh mio, io stavo... Oh! Stiamo vedendo Ryusei forma dei... Forma dei down tilt. Sì. È anche qualcosa... Guardalo, guardalo. Quando Ryusei fa down tilt sai che la situazione è seria. Ma poi lo vedo molto più composto rispetto al game di prima, ottima dalle colori che abbiamo farsi. Siete down. Un po' meno spesso, un po' più fermo sulle sue, però comunque sia nella zona. Adesso è off state. Sì, potremmo apprezzarlo. E Blast sta cercando di baitare qualche ricorsa per... Oh! Oh mio! Ma stiamo male! Ma che ridera! Cosa... cosa ha letto? Cosa ha letto? Stava ripiarsi pure repente. Oh mio dio. Oh madonna. Ok. Va bene. Ok. Allettura. Ok. Allettura. No. Non possiamo dire questa cosa. Adesso Blast deve... eccola qua la stock. Ecco qua. Sì, la stock sarebbe volata. Sull'aria tuboloso di Ryusei che vuole... Lui prema B. È tornato. Lui prema B. Oh mio dio. 40%. E stava due per killare. La cosa divertente è che non l'ha killato perché era Sour Spot. Ah vabbè. Se avesse preso Sweet Spot avrebbe ucciso Straight Up. Molto... Eh vabbè. Sì si sta insomma. Molto... Molto ok. Ah beh. Nel senso cioè hai stato un pochino... Hai stato un pochino. Deve uccidere al 40%. Sì. Ottimo il trump da parte di Blast. Da recover. Ai 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 ai. Questa è una stock feed abbastanza grossa da dover recuperare. Deve cercare un guintino o qualcosa per rubare un pochino. Ma vediamo che qui il ladro è Ryusei. Non è Blast. Blast è irrapinato. Sì. Ok. 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 Faccio lontancio. Ok. Ecco. Il Rayr apparecchilla 68! A zero! Letteramente a zero! Mamma mia. E che c'è da dire? Dio. Che c'è da dire? è chiaramente eh... È chiaramente un momento in silo then! È chiaramente un momento in silo! Mamma mia. Mamma mia! Io amo questa terezza e adoro vedere che mi fai giocare. Sì, vabbè, è uno showman, diciamo, uno che lo fa per il poco, no? Lui davvero lo fa, questo. Ma dov'era il nome? Dottobasco. Potrebbe essere rotto. Quando lo fa, no, è la skin di Kiryu, baggo un po' di cose. Infatti caso io a Sora non ho noi. Ma nel senso che qui a Napoli non abbiamo né Katia né Sora, non c'è perché niente. Ah, penso che anche, vabbè, c'è Drek che non c'è Katia, però non penso che gli punti qualcosa, se non ci vede Katia. Ok, allora. Ok, mettiè in Libra. Lui c'è. Probiamo il match con Dresk e Mutov se c'è di sei. Fallisce Dredd. Potrò dire che secondo Dresk sta rinunciando un po' di opportunità di guardare che sono anche abbastanza gladissimi. Ma non so se è che fa un grau, ma è un po' di opportunità. Oh mio Dio, è morto. Eh sì. La trolley è molto... È morto. È morto. La cosa è che... Oh mio Dio, ci stava. Ci stava poi le qualità. Devo rubarla e non è mai andato per farlo. Però... Ok, ottimo RB per salire. Va bene. E cazzo. Riseghi avventura tra i tasti. Quello sto qui per premere tutto. Ma non abbiamo di un gioco proprio con la pentola. Sì. Il problema è che la tastiera, il problema è di scrittura dei bomb. Ok, ottimo Blast che tiene un controllo ben saldo della partita. Ok, non riesce a connettere... Non riesce a connettere veramente la tech situation. Non riesce a connettere quel Dale, però comunque la percentuale inizia a salire. Non sta entrando nelle cringiate di Incineroar. Un'altra spike, il Q della stock e siamo due stock di più saggio. 6D ancora non kill. Adesso è ragionato, tranquillo. Ok, ma non è pure il messaggio di qua. Una stecca precisa. Proprio ne ho dei denti da più. Allora, se abbiamo imparato qualcosa dal game precedente è che le cose possono andare a male. Molto velocemente, comunque. Non riesce a scherzare. Ecco qua, 15% da un smash shot, 36%. Cerca di dare le 6 tesi. Ok. Non mi ha dici, ma io veramente vedo l'Incinerar che hai giocato tu la volta scorsa. Vabbè, quando l'ho giocato contro l'Italia stavo giocando con un degenerato, però io in Cinerar lo gioco in modo un po' diverso. Vabbè, però lo ripeto. Non ho mai visto risentere così tanto scudo nella propria. Per più di mezzo, per più di mezzo, per respirare il suo scudo, arriva n'era perché basta. Basta, tutto speciale. Lui vuole giocare il giochino, non vuole rimanere di scudo. No, ci sto, nel senso... Lo rispetto, lo rispetto. Penso che devi rispettare lui. Almeno i miei miei fatti. Però... Ok, non trova la... Giabloo. No, dai. Molto bravo Bless, lo sta soffocando al corner, anche se non killerà presto. Comunque lo stanno dando lì. Stanno dando lì. Sì. Devo uscire. Ok, qui Katak lo fa uscire. La Shattar è ottima DI da parte di Joseca. Ancora... Non perde questa stock. Eh, però... Pensavo che... No, no, no. Pensavo che arrivasse l'Ariath. Però... Oh mio Dio! Si sta un po' dimenticando di spammare l'Ariath. Se spammare l'Ariath fa gli amore. Backthrow ancora non uccide perché la Backthrow non è una velatrona. È morto. GAME! Eh sì, è andata così. Puntunque è ovvio che poi... Siamo... Siamo diventati. Sì, sta diventati. Sì, sta diventati. Alla fine, se... Se non ci divertiamo in un giochino per bambini... Che stiamo a fare qua? C'è stato promesso che viene un po' d'anni. No, ma è... Stronco! Ho avuto un po' di suona. No, no, non posso. Non c'è la cosa di... Non c'è la cosa di... Ok, vediamo un po'. Ok, vediamo un po'. C'è i Blessings per sfuggere. 3, 2, 1... E' una bella spaghettata insomma. E' incertibile. Se respiri vicino a Ryzei arriva... Arriva qualcosa. Qualche mescata. Quindi proprio... Lui ha bisogno di giocare a Do. Cioè, ne... Gli serve. E' proprio l'adrenalina. Proprio la dopamina che sente quando... Riesce a commettere una boss sull'appestario e... 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 Bella tecca. Attenzione, attenzione, attenzione! Ok, è il finale. Ok, Bless però comunque lo sta... La cosa che fa... La cosa che fa... La cosa che fa Bless bene in questo matchup è che... Bella. Bella è. E' bravo a mettere in situazioni di checkmate... Più in neutral che in edgeguard. Però comunque... In situazioni dove non può usare l'evenge come vuole. Ok, qui... Trova la stock. Solo 46% di danno. Deve stare attento a non morire early da qualche... Ok. Da dove hai fail, non hai una troppa di 6b. Up B. Ho visto un down early. Ok, non devi controllare la grab. Ok. Batterà per un po'. Batterà per un po'. Ok, magari le partano le fai. Noi. E' il bridge, no? Ok. Ok. Bless è nella zona bridge. Vuole fare questi bridge, assolutamente. Qui sei. Un crew in blue. Ma ma è abbastanza... Ma... Ma è true sta roba? Si è true. Ma... Tanti personaggi tornano, però... È vicino. Però non ce la fanno. Allora è morto di nuovo, ammesciato. Il fremitore. Il fremitore. Il fremitore è più abbastanza in alto. E va bene. Verso Tocalle contro il signor Dina Merle. Però non commenterò io. Perché sono abbastanza stanco. Perché ha fatto la tequila. Non vuoi commentare tu? Perché... Allora vabbè. Allora vabbè...